le minga più il caso di accontentarsi degli spicci ci vuole in squadra ci vogliono i fuori classi quindi ho chiamato il sergio che ce l'ha nel sangue poi con il metra fa quello che vuole poi c'è il faustino faustino siamo amici di infanzia abbiamo fatto insieme anche il riformatorio e poi c'è il beppe cazzo quello è capace di andare a 200 all'ora su due ruote va che se siamo bravi mettiamo su una batteria che non ce ne sono in italia allora socio lasciamo perdere si torna mica indietro sai alcuni indizi farebbero pensare alla banda vallanzasca io sono francisco laterio lui è nato da l'anzasca e deve stare al posto suo questi qua vanno eliminati e in qualsiasi carcere si trovino per la roba vai a pestare i miei genitori per la roba ti vedi con qualcuno se la polizia ci prende siamo morti se ci prendono i carabinieri quelli buttano la chiara ma ti rendi conto dei disastri che stai combinando puoi fare la guerra al mondo c'è chi nasce a scarafaggio di scienziato chi santa maria teresa di calcutta io sono nato per fare il ladro mi ripeti il freddo amore adesso ho le parole che vorrei poterti dire e vorrei poterti dire dire che sono stanco da morire io non sono cattivo ho soltanto il lato oscuro un po' pronunciato io non sono cattivo